buongiorno a tutti come ben saprete certamente molti usano studiare il daffio mi ovvero il la pagina del talmud giornaliero si studia un una pagina una pagina che consiste di due facciate al giorno si è cominciato da poco il nuovo ciclo al colel di milano studiamo anche il daffio mi e quindi oggi studeremo il daffo di erno ci troviamo nel trattato shabbat il daff di oggi la pagina di oggi è la pagina 6 però cominceremo dalle ultime righe della pagina 5b daff hei amud beth cinque righe dal basso quello che si sta trattando in queste in queste pagine è il il divieto di trasportare durante lo shabbat da una proprietà all'altra dalla proprietà privata quella pubblica o da quella pubblica quella privata adesso bisogna specificare che quando si tratta di proprietà privata o pubblica non si intende privata o pubblica nel senso di appartenenza cioè una proprietà che appartiene al privato o la proprietà che appartiene al pubblico pensi si tratta di parametri halachici per essere una proprietà privata deve essere un'area di almeno 4 tefachim per 4 tefachim ogni tefach equivale a 8 centimetri quindi 32 per 32 e avere delle mura alte almeno 10 tefachim quindi 80 centimetri oppure se non si tratta di mura alte 10 tefachim si tratta di una qualcosa di rialzato può essere un palo di queste dimensioni 4 per 4 e alto 10 oppure un solco profondo 10 tefachim e largo 4 per 4 quindi un pozzo potrebbe essere una proprietà privata anche se non appartiene legalmente alcun privato è comunque considerata dal punto di vista dello shabbat una proprietà privata quindi in conclusione un'area che sia 4 per 4 e alto 10 intendiamo tefachim e ripeto ogni tefachim equivale a 8 centimetri almeno secondo una opinione mentre una proprietà pubblica si intende non qualcosa che appartiene al pubblico ma una strada dove il pubblico passa nel senso che è adibita proprio al passaggio del pubblico quindi le strade pubbliche dove la gente passa o i mercati sono strade per il pubblico shabbat la tua vieta il trasporto da una proprietà all'altra quindi o dalla privata a quella pubblica o dalla pubblica a quella privata in realtà ci può essere un'altra proprietà che non sia né privata né pubblica perché non ha i requisiti di essere una proprietà privata o non ha quelli per essere una proprietà pubblica e questo si chiama un carmelit ad esempio il mare il mare non è una non è una strada per il pubblico e quindi non è considerata una proprietà pubblica quindi in sostanza uno volendo può trasportare nel mare quanto gli pare il deserto il deserto non è una strada per il pubblico sì è proprietà pubblica legalmente parlando ma non è adibita al pubblico magari qualcuno ci passa ma non è una strada dove il pubblico passa quindi non è considerata una proprietà pubblica quindi uno volendo può trasportare dalla proprietà privata a quella da proprietà pubblica al al deserto o dal deserto a quella la proprietà pubblica oltre al divieto di trasportare dalla proprietà privata a quella pubblica e viceversa c'è anche il divieto di trasportare in proprietà pubblica per quattro amot allora una ma equivale a 48 centimetri quindi si tratta di un metro e 92 ma la verità è che non è quattro amot bensì la diagonale di un quadrato di quattro amot quindi diventa cinque amot e tre quinti di amot noi comunque lo chiameremo sempre quattro amot perché si parla sempre di quattro amot però tenete conto che si intende la diagonale di un quadrato di quattro amot quindi se io shabbat in proprietà pubblica alzo un oggetto e faccio un passo e poi lo appoggio non ho fatto alcuna trasgressione perché non ho passato la diagonale di quattro amot se invece prendo l'oggetto e cammino oltre quella distanza ho trasgredito al divieto di trasportare in proprietà pubblica teoricamente parlando uno direbbe bene a questo punto cosa faccio cammino poco poco e così trasporto fino a casa perché ogni passo che faccio mi fermo poi riprendo e mi fermo non passo le quattro amot la diagonale di quattro amot e quindi va bene è comunque vietato dai khachamim farlo possiamo ben capire perché perché molto facilmente uno verrebbe a trasportare in maniera normale senza fermarsi però dal punto di vista della torà finché uno trasporta entro queste quattro amot entro la diagonale del quattro amot non ha fatto alcun alcun divieto adesso tornando a noi tornando al al divieto di trasportare da proprietà pubblica privata o viceversa cosa succede allora anzitutto noi i divieti della torà riguardo shabbat li impariamo da ciò che si faceva per la costruzione del mishkan cioè la torà dice non si può fare lavoro di shabbat ma non ci dice quale è questo lavoro che non si può fare di shabbat e noi sappiamo tutto ciò che veniva fatto per la costruzione del mishkan del tabernacolo è considerata un lavoro adesso per la costruzione anzitutto bisognava donare le parashotte di queste settimane che stiamo leggendo parlano appunto di questo parashatte rumate delle donazioni che si facevano per il mishkan e per fare queste donazioni bisognava passare dalla propria tenda che è la proprietà privata all'accampamento dei leviti che la proprietà pubblica da cui noi impariamo che trasportare un oggetto dalla proprietà privata quella pubblica è vietato la domanda però è questa se io trasporto dalla proprietà privata quella pubblica passando però per un carmelit ovvero una proprietà che dal punto di vista della torà non è considerata né privata né pubblica come dicevamo prima ad esempio il mare o il deserto adesso chiaramente è difficile pensare a un caso in cui io trasporti dalla proprietà privata quella pubblica passando per mare un deserto però può esserci un altro esempio tra casa mia e la proprietà pubblica può esserci quello che la beraita chiama uno stav cos'è lo stav stav in termini nostri sarebbe una sorta di portico era praticamente al tempo c'erano i negozi e di fronte ai negozi c'era questo spiazzo dove i commercianti si sedevano avevano la merce esposta un po' se vogliamo un po' come il fruttivendolo che espone la merce fuori un po' l'idea semplicemente l'idea quindi quella striscia di strada non era adibita al pubblico perché c'erano i commercianti che vi sedevano quindi non può essere considerata proprietà pubblica perché come abbiamo detto prima non si tratta di ciò che è legalmente considerato pubblico bensì di ciò che è alachicamente chiamato pubblico e legalicamente deve essere una strada adibita al pubblico questo spiazzo non è adibito al pubblico e adibito ai commercianti d'altro canto non può essere una proprietà privata perché per essere privata deve essere chiusa da almeno tre lati con un'altezza di 10 tefahim di 80 centimetri come abbiamo visto prima può essere un solco può essere un palo può essere qualsiasi area che abbia 4 per 4 con altezza 10 in questo caso però lo stav questo spiazzo è aperto e quindi dal punto di vista della torà quello quella 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 area lì questo stav chiamiamolo con la parola con come la chiama la beraita non è né proprietà privata né proprietà pubblica quindi siccome il divieto è solo di trasportare da proprietà privata pubblica e viceversa ma non il divieto da privata a carmelit o da carmelit a pubblica e viceversa questa carmelit che è questa area che non è né privata né pubblica diventa un'area che è permesso trasportare da essa e in essa cosa succede se io trasporto dalla proprietà privata a quella pubblica passando per questo stav per questo carmelit da un canto trasporta la privata pubblica che sarebbe vietato l'altro canto però sto passando per questo stav che sarebbe un'area dove non vi è alcun divieto di trasporto né in sé né da sé allora questo è oggetto di disputa tra tanakama quando si dice tanakama si intende tana vuol dire maestro della mishnà quindi il primo maestro anonimo citato nella beraita ovvero khachamim l'opinione dei khachamim e ben azai allora khachamim sostengono che se uno trasporta dal negozio alla proprietà pubblica passando per lo stav si è khayyav khayyav vuol dire si è passibili cioè si è trasgredito il divieto di trasportare dalla proprietà privata a quella pubblica perché è un lungo cammino il fatto che io sia passato per lo stav non costituisce una interruzione tra la proprietà privata e quella pubblica è un lungo cammino che è cominciato in proprietà privata è definito in proprietà pubblica e quindi ho trasgredito il divieto di trasportare di shabbat invece ben azai il figlio di azai dice no non lo si può fare però non sei khayyav ovvero sei esente dalla punizione che sarebbe se l'hai fatto inavvertitamente portare un korban se invece l'hai fatto con intenzione una punizione più grave ad ogni modo dice ben azai no non hai trasgredito il divieto di trasportare da proprietà privata a quella pubblica e questo perché perché ben azai dice il mio cammino non è un lungo cammino che comincia dalla proprietà privata dal negozio e termina in quella pubblica bensì ogni passo che faccio sto ricominciando un nuovo cammino e quindi è un susseguirsi di cammini quindi succede questo io nel negozio prendo l'articolo e comincio a camminare vado verso lo stav quando arriva lo stav metto il piede sullo stav dice ben azai hai concluso un cammino quel cammino che prendeva l'oggetto dalla proprietà privata allo stav che è permesso perché lo stav non è né privato né pubblico e quindi non c'è problema quando poi dallo stav metti il piede fuori alla proprietà pubblica anche lì non hai fatto niente perché hai trasportato dallo stava la proprietà pubblica che è permesso in sostanza hai fatto due viaggi diversi due trasporti non hai fatto dalla privata alla pubblica passando per lo stav come direbbero i kakamimi quindi è un solo passaggio che ti rende passibile di pena bensì hai fatto un viaggio un trasporto dalla privata la proprietà privata allo stav che è permesso e dallo stav alla proprietà pubblica ha hamim te lo vietano perché rischi di farlo anche dalla proprietà privata quella pubblica in maniera diretta senza passare per lo stav però non sei hayaf perché non hai fatto alcun divieto allora detto questo vediamo la gemara allora come dicevo il daf di oggi è daf 6 però cominciamo da daf 5b daf verso la fine tanura banan insegnano i maestri in una beraita ha mozì se uno fa uscire un oggetto di shabbat mehanut le platia derech stav dal negozio alla strada hanute il negozio platia è la strada pubblica stav è questo portico questa insomma questa striscia di di strada dove commercianti come diciamo prima mettevano le loro merce quindi diventava né proprietà pubblica né proprietà privata se uno fa questo di shabbat dice il tanakama o il hachamim la prima opinione hayav la persona è passibile di pena perché ha trasgredito il divieto di trasportare la proprietà pubblica la proprietà privata quella pubblica seppur sia passato per lo stav che sarebbe una zona neutra mentre ben azai dice no è patur perché come dicevo prima non è un lungo tragitto bensì un susseguirsi di cammini il primo dalla proprietà privata allo stav e il secondo dallo stav a quella pubblica quindi ha fatto due viaggi diversi dice la gemara bishlama bishlama viene dalla parola shalom pace capisco mi va bene bishlama ben azai io posso capire l'opinione di ben azai che dice che la persona che fa ciò è esente ca savar savar è legato a savri come diciamo savri maranan savar è dell'opinione lui pensa me alech che omed da mei una persona che cammina è vista come uno che è ferma nel senso che ogni passo che fa si sta fermando e sta riprendendo un altro cammino e quindi come abbiamo spiegato prima a lungo il primo passo lo fa dal negozio allo stav e lì ha finito il primo viaggio il secondo sarà dallo stav verso la proprietà pubblica e quindi c'è la gemara capisco ben azai me alech che omed colui che cammina in sostanza si sta sta facendo tanti tanti viaggi si sta fermando ogni passo e quindi riparte un altro viaggio e la rabbanan però i khachamim che dicono che in questo caso si è khayab nel senso il fatto che si sia passati dalla privata repubblica passando per lo stav che è neutro non è un problema perché è un lungo cammino nehinami va anche bene de cassavri me alech lav che omed dami mi va anche bene che loro siano dell'opinione che chi cammina non è da considerarsi come se stesse facendo tanti viaggi bensì è uno solo però dove troviamo un caso simile che è da considerarsi khayab e spiego la domanda come abbiamo detto prima il divieto i divieti di shabbat noi li impariamo da come veniva costruito il mishkan e siccome per il mishkan si portavano le donazioni dalle tende che la proprietà privata verso l'accampamento delle viti che la proprietà pubblica da cui impariamo che non si può trasportare la proprietà privata quella pubblica però dice la gemara in quel caso si passava direttamente dalla proprietà privata a quella pubblica non si passava via una zona neutra via un carmelit o nel nostro caso via uno stav e quindi da dove lo sanno i khachamim che anche se si passa per una zona neutra sia comunque khayab se non abbiamo un precedente nella costruzione del mishkan se noi per lavoro vietato di shabbat facciamo riferimento a ciò che veniva svolto per il mishkan non troviamo un caso del genere nel mishkan dove si passava da proprietà privata pubblica passando per lo stav si passava direttamente a quella pubblica la gemara prova a dare alcuni alcuni altri casi dove troviamo che si passa per una zona neutra e comunque sia khayab allora come dicevamo prima oltre al divieto di trasportare la proprietà privata pubblica e viceversa c'è l'altro divieto di trasportare nella proprietà pubblica stessa più di 4 amot ovvero più della diagonale di 4 amot adesso succede questo se io comincio a trasportare da punto 0 e arrivo a punto 4 lì ho trasgredito il divieto di trasportare più di 4 amot se io continuo a camminare non sto aggiungendo dei divieti finché io non appoggio l'oggetto sto continuando quel primo divieto giusto per dare un esempio è come se abbiamo il minyan che è costituito da 10 persone se ne arrivano 11 o altri 10.000 sarà sempre un minyan sarà un minyan grande ma è comunque un minyan quindi se io prendo questo oggetto e comincio a camminare per la diagonale di 4 amot scatta il khayab scatta la mia trasgressione quando io continuo a camminare non sto aggiungendo trasgressioni finché non appoggio l'oggetto e lo riprendo allora farò un'altra trasgressione ma finché lo appoggio sto continuando la prima trasgressione quindi in sostanza quello che succede è questo che abbiamo una persona che prende l'oggetto cammina la diagonale di 4 amot scatta il divieto quando lui continua a camminare è come se fosse in una zona neutra perché quel ulteriore cammino non sta aggiungendo altri divieti finché non poggia l'oggetto e allora è considerato che ha trasgredito e quindi vediamo sì che c'è un caso del genere dove si passa da un divieto da diciamo da una da una azione all'altra non si tratta di proprietà ma l'azione di passare 4 amot e quella di appoggiare l'oggetto che sono vietati però perché finché non appoggio l'oggetto non sarebbe insomma da quando passo i 4 amot scusate finché lo appoggio ho questa zona neutra che sarebbero tutti i passi che sto facendo che non mi aggiungono un divieto quindi l'analogia sarebbe questa io praticamente trasporto il nostro caso è dal negozio alla proprietà pubblica passando per la zona neutra sarohaya ma dove troviamo un precedente dove troviamo un altro caso analogo lo troviamo quando uno trasporta 4 amot gli scatta il riscatta la trasgressione che si protrae fino a quando lui appoggia l'oggetto da quando passa le quattro amot fino a che appoggia l'oggetto si trova in una zona neutra eppure è khayav e quindi possiamo trovare un parallelo al nostro caso al che la gemara dice no non si può paragonare il caso di chi trasporta dal negozio alla proprietà pubblica passando per lo staff a chi cammina più di 4 amot che sta camminando in una zona neutra finché non appoggia l'oggetto e questo perché perché quando uno trasporta in zona pubblica in proprietà pubblica più di 4 amot ogni in ogni luogo dove lui eventualmente appoggerà l'oggetto lo renderà khayav di aver trasportato più di 4 amot quindi non c'è un luogo veramente neutro è tutto un luogo che lo rende passibile la domanda è dove sarà questo luogo prima o dopo però sarà invece quando si tratta di trasportare dalla proprietà privata alla pubblica passando per lo staff se io appoggio nello staff sarò completamente patù sarò completamente esente quindi non posso fare un'analogia tra i due casi allora leggo la gemara allora dice la gemara ammar e qui siamo proprio all'ultima riga di dafea mudbet 5b ammar raf safra disse raf safra ammar rabbiami a nome di rabbiami ammar rabbio hanan a nome di rabbio hanan midi de have questo caso è analogo a ma'avir chefez bi reshut arabim a uno che trasporta un oggetto nella proprietà pubblica oltre la diagonale delle quattro amot hatam li lav afalgar non è forse il caso che nonostante de kama de nakit leve asil patur che nonostante uno cammini ben oltre le quattro amot sarà comunque esente per ulteriori passi che farà ovvero quando passa le quattro amot scatta la trasgressione altri passi sono da considerarsi neutri perché non lo rendono passibile di altri di altre trasgressioni chi manach lei eppure quando appoggia l'oggetto diventa pur essendo passato per una zona neutra tra le quattro amot e dove appoggia ha hanami qui anche nel caso di uno che trasporta dal negozio alla proprietà pubblica passando per lo stav lo shena non dovrebbe essere diverso che daf samodaf wav amud alef daf sei a daf sei a prime righe al che dice la gemara mi dame sono forse paragonabili hatam li certamente non sono paragonabili due casi nel caso di uno che cammina più di quattro amot col heicha de manach lei ogni laddove lui eventualmente appoggerà l'oggetto mekom chiyuvu sarà un luogo che lo renderà passibile la domanda è dov'è quel luogo un passo prima, un passo dopo ma non è da considerarsi zona neutra ai miei fini personali diciamo è neutra finché non appoggio però ogni dove lo appoggerò sarà considerato il luogo che mi rende passibile hacha invece qui cioè nel caso di cui stiamo trattando dal negozio della proprietà pubblica per lo stav imanach lei io vuol dire se im se lo appoggia di stav se lo appoggia nello stav mekom petur lo stav è un mekom petur e quindi sarà completamente esente quindi non possiamo paragonare i due e quindi torna la domanda dove troviamo un precedente che passando per una zona neutra si è khajav si è passibile di pena al che dice la gemara diversamente allora sempre parlando cioè la gemara cambia rotta ma non completamente sempre parlando del caso di uno che trasporta oltre la diagonale di 4 amot prima parlavamo di uno che passa le 4 amot va avanti per un po' e poi si ferma vediamo invece uno che trasporta esattamente la diagonale di 4 amot ma esattamente cosa succede? da quando lui alza l'oggetto sta passando per una zona neutra perché come diciamo prima se io trasporto da qui a meno di 4 amot non ho fatto alcun divieto non ho trasgredito alcun divieto perché posso trasportare meno della diagonale di 4 amot quindi quando io alzo l'oggetto sto camminando fino ad arrivare alle 4 amot sto camminando in una zona neutra e soltanto dopo appena concludo questa diagonale delle 4 amot e lo appoggio lì divento passibile di pena quindi troviamo un caso in cui si passa per una zona neutra e comunque si è khayyav quindi anche qua da negozio proprietà pubblica passando per lo staff saremmo khayyav quindi questo sarebbe un precedente dove troviamo che passando per una zona neutra si è comunque khayyav si è comunque passibile di pena comunque si trasgredisce un divieto e anche a questo e anche a questo la Gemara risponde dicendo no non è un buon paragone perché no perché io personalmente che ho alzato l'oggetto in punto 0 è vero che finché non arrivo al punto 4 per me quell'area è neutra ma per qualcun altro che magari ha preso l'oggetto al meno 2 quando arriva al 2 lo appoggia lì per lui sarà khayyav perché ha trasportato 4 amot quindi è soggettivo per me quell'area lì entro le 4 amot è considerata neutra ma per qualcun altro no perché siamo sempre comunque nella proprietà pubblica invece lo staff di cui stiamo parlando per qualsiasi persona è considerata zona neutra non è soggettiva è assoluta quindi non possiamo fare un parallelo e leggiamo la Gemara Ela siamo a 1,2,3,4 5 righe dall'alto quando la Gemara dice sì siamo sempre in Daf 6 Daf Vav 6 A ok allora 5 righe dall'alto quando la Gemara dice Ela vuol dire hai ragione quello che ti ho detto prima non sussiste diamo un'altra spiegazione quindi l'obiettivo quale è trovare un precedente che passando per una zona neutra sia comunque khayyav sia comunque passibili di pena Ela e questo è paragonabile a ma'avir chefez a uno che trasporta un oggetto mitechilat arba da inizio di 4 amot cioè da punto 0 lesof arba a esattamente la fine delle 4 amot o per esattezza della diagonale delle 4 amot come abbiamo detto prima e quindi qual è il parallelo hatam li lav afalgav non è forse che nonostante dei manachlei che se lo avesse appoggiato bettoch arba amot se avesse appoggiato l'oggetto entro le 4 amot patur sarebbe stato esente perché non ha trasportato più di 4 amot chi manachlei e nonostante ciò se lo appoggia betsof arba amot alla fine di 4 amot cioè dopo le 4 amot khayav diventa passibile di pena cioè sta passando per una zona neutra allora hahanami qui anche nel nostro caso che stiamo trattando lo shenah lo shenah non è diverso non dovrebbe essere diverso perché si passa comunque per una zona neutra al che dice la gemara come abbiamo anticipato prima mi dame mi dame è retorico è forse simile vuoi forse paragonare i due hatam li nel caso di chi trasporta esattamente 4 amot è vero che passa una zona neutra però le gabei de hai gavra riguardo quella persona specifica mekom petur per lui è un luogo patur ovvero è una zona neutra le kule alma ovvero le kol ha olam però per tutte le altre persone cioè per uno che comincia a trasportare un oggetto prima del mio punto zero che sia meno uno meno due quello che sia mekom riuh se lui poi lo appoggia dentro le mie quattro amot e mia intendo da dove ho cominciato io a alzare l'oggetto per lui sarà hayav invece hayav qui il caso di cui stiamo trattando noi che sarebbe il passaggio per lo stav le kule alma mekom petur è un luogo che non è soggettivamente neutro ma è assolutamente neutro cioè per tutti per qualsiasi persona questo stav è considerato neutro e quindi in sostanza torniamo alla domanda dove troviamo un parallelo un precedente che passando per una zona neutra sia comunque passibili sia comunque si trasgredisce il divieto ok al che dice la Gemara al tempo insomma le strade chiaramente adibite al pubblico avevano quello che la Gemara chiama i tzidei reshut harabim tzidei reshut harabim vuol dire i lati i lati non erano veramente adibiti al passaggio delle persone del pubblico perché la gente passava in mezzo però quando c'era grande folla si usava anche i lati adesso siccome abbiamo detto che reshut harabim per essere reshut harabim deve essere un luogo non che appartiene al pubblico cioè proprietà pubblica vuol dire non che appartiene al pubblico ma che adibita al passaggio del pubblico allora c'è una disputa in un altro trattato tra rabbi eliezer e i khachamim se questi tzidei reshut harabim se i lati le estremità della strada sono da considerarsi proprietà pubblica o meno perché il pubblico non ci passa ci passa solo raramente rabbi eliezer dice siccome capita a volte raro però capita che il pubblico passi ai lati della strada io lo considero proprietà pubblica cioè adibita al pubblico khachamimi invece dicono no è da considerarsi come qualsiasi altro luogo che qualcuno ci può andare ma non è adibito al pubblico se vogliamo il deserto il mare le foreste che uno ci può passare però non è una proprietà per il pubblico allora cosa succede che se ogni strada ha i suoi lati se ogni strada ha i tzidei reshut harabim allora come dicevamo prima noi impariamo i divieti da come venivano fatte i lavori per il mishkan se ogni strada ha un lato quando gli ebrei portavano le donazioni al mishkan da lì abbiamo imparato il divieto di trasportare dalla tenda che è la proprietà privata all'accampamento dei levitiche proprietà pubblica passavano per forza per i tzidei reshut harabim per questi lati del reshut harabim per i khachamim questi lati sono da considerarsi non reshut harabim sono da considerarsi zona neutra eppure da lì impariamo il divieto di trasportare da proprietà privata a quella pubblica quindi è proprio la fonte da cui impariamo il divieto di trasportare da proprietà privata a quella pubblica che mi insegna che si passava per una zona neutra e quindi abbiamo risolto il nostro problema ok chiaramente ci rimarrà da capire come la spiega Rabbi Eliezer perché per Rabbi Eliezer anche questi lati della proprietà pubblica sono da considerarsi proprietà pubblica quindi anche per il mishkan si passava direttamente dalle tende alla proprietà pubblica perché anche i lati sono proprietà pubblica e quindi dovrà lui spiegarci dove troviamo un precedente invece i hachamim sono al posto i hachamim ci dicono molto semplice ci sono questi lati sono zona neutra eppure si passava per quella zona e da lì impariamo il divieto dice la gemara come dicevo prima come dicevo prima quando si dice Ela vuol dire bisogna rispiegare la cosa cioè ti spiego diversamente questo è un caso analogo cioè il caso di chi trasporta dal negozio alla proprietà pubblica passando per lo Stav di uno che trasporta la proprietà privata quella pubblica passando per i lati della proprietà pubblica come dicevo prima sono da considerarsi zona neutra perché i hachamim sono dell'opinione che il pubblico non ci passa e quindi non è proprietà pubblica e quindi anche lì cosa vediamo che se io trasporto dalla proprietà privata ai Zidere Zut Arabim sarei esente invece passando dalla proprietà privata a quella pubblica passando per i Zidere Zut Arabim sono comunque Allora qui anche lo Shena non è diversa la cosa quindi in sostanza da casa a strada passo per i Zidere Zut Arabim che sono una proprietà neutra e sono comunque Hayav allora anche dal negozio alla strada passo per lo Stav sono comunque Hayav pur passando per una zona neutra ok Matkiflar Ravpapa chiede Ravpapa Hanikha le Rabbanan questa spiegazione va bene secondo i Chachamim De Amre che dicono Zidere Zut Arabim Lav che Zut Arabim Dame che i lati della proprietà pubblica non sono da considerarsi proprietà pubblica bensì zona neutra e quindi abbiamo un precedente di un passaggio da proprietà privata a pubblica via zona neutra che ti rende comunque Hayav passibile e le Rabbie Eliezer però secondo Rabbie Eliezer De Amar che è dell'opinione che dice Zidere Zut Arabim che Rishut Arabim Dame che i lati della proprietà pubblica sono da considerarsi proprietà pubblica come ho anticipato prima per il mero fatto che in casi rari quando c'è un grande folla si usa quei lati è da considerarsi proprietà pubblica mai Ica le Memar cosa c'è da dire nel senso come mi spiegherai questa cosa come mai chi trasporta dal negozio alla strada passando per lo staff per zona neutra e Hayav non puoi dirmi che è simile a chi va da casa alla strada passando per Zidere Zut Arabim perché per Rabbie Eliezer Zidere Zut Arabim l'estremità della proprietà pubblica è tale o uguale alla proprietà pubblica stessa e quindi c'è un passaggio diretto dalla proprietà privata alla pubblica e non via una zona neutra risponde la Gemara e vi anticipo la risposta che in sostanza Rabbie Eliezer è d'accordo che esista il concetto di Zidere Zut Arabim nel senso se viene delineata quella zona come Zidere Zut Arabim ovvero se si mettono dei pioli o dei paletti che indicano queste sono le estremità della strada non si cammina lì a meno che la strada è questa non oltre anche lui sarà d'accordo che quello che è oltre i paletti quello che è oltre i pioli è da considerarsi zona neutra quando Rabbie Eliezer diceva che i lati della strada sono da considerarsi come la strada intendeva solo nel caso in cui non ci sia niente che delinei i lati della strada se però c'è qualcosa che delinea nettamente i lati della strada è d'accordo che ai lati è da considerarsi zona neutra e quindi possiamo ben dire che anche al tempo del Mishkan tra le tende e la proprietà pubblica c'era i tzidere suterabim ovvero i lati della proprietà pubblica delineati con dei paletti e quindi anche lì c'era il passaggio da proprietà privata pubblica via la zona neutra e comunque si era considerato un trasporto da proprietà privata a quella pubblica che appunto è la fonte da cui si impara il divieto di trasportare da proprietà privata a quella pubblica e quindi lo stesso vale anche per chi trasporta del negozio a proprietà pubblica per lo Stav dice la Gemara leggo adesso la risposta Amar le gli disse cioè Rav Papa che ha sollevato la domanda gli risponde Rav Acha bere di Rav Ica gli risponde Rav Acha figlio di Rav Ica Eimur ti dirò De Shemat le Rabe Eliezer di Amar quello che tu hai sentito quello che tu hai imparato da Rabe Eliezer che diceva si de reshuta Rabbim che reshuta Rabbim dame che i lati della proprietà pubblica sono da considerarsi come la proprietà pubblica laddove non vi siano dei delineamenti fatti di pioli o di paletti quello che sia però laddove ci siano dei delineamenti Mish hai forse imparato da lui che i lati non vengono considerati zona neutra certamente sì se sono delineati sono zona neutra dunque lehadamia e a questo che viene paragonato il caso di chi trasporta dal negozio alla proprietà pubblica per lo staff viene paragonato al classico trasporto alla proprietà privata quella pubblica passando per i lati del reshuta Rabbim dove anche Rabbim di essere d'accordo che se è delineato è da considerarsi zona neutra e questo conclude la discussione della Beraita dove abbiamo visto due opinioni Chachamim che dicono che è vietato e ci siamo chiesti però sta passando per una zona neutra e quindi dove troviamo un precedente e l'abbiamo trovato e Benazai che dice no uno non è Hayav perché non ha fatto un solo trasporto ma ne ha fatti tanti e quindi uno era da proprietà privata a quella neutra e l'altro da quella neutra a quella pubblica dove non si è Hayav ok dice conclude la Gemara Amar Rabi Yohanan disse Rabi Yohanan Umodeh Benazai Benazai sarà però d'accordo ai Chachamim Bezorek nel caso in cui uno getti cioè il caso in cui stavamo trattando era di uno che trasportava con sé un oggetto dal negozio alla proprietà pubblica passando per lo stav se però un oggetto dal negozio alla proprietà pubblica sorvolando lo stav lì Benazai sarà d'accordo con i Chachamim che ha trasgredito il divieto e questo perché? perché il motivo per cui Benazai esentava chi trasportava passando per lo stav era come dicevamo appunto prima perché ogni passo consisteva un nuovo trasporto quindi il primo passo l'hai fatto dalla proprietà privata a quella neutra e fin qui non è trasgredito niente il secondo da quella neutra a quella pubblica non è fatto niente siamo a posto se però getti un articolo non puoi dire che si tratta di un susseguirsi di passaggi è tutt'uno è un volo solo senza scali e quindi anche Benazai sarà d'accordo che in quel caso uno ha trasgredito il divieto di trasportare la proprietà privata quella pubblica e non mi interessa che sia passato dalla zona neutra perché non si è fermato nella zona neutra perché era appunto un volo e la Gemara aggiunge che in effetti c'è una bretta che lo dice in maniera esplicita abbiamo infatti anche imparato una bretta che dice questo se uno trasporta un oggetto dal negozio ovvero proprietà privata alla platia cioè la strada pubblica passando per lo stav la zona neutra ha trasgredito sia se uno fa uscire sia uno che fa entrare ovvero o da quella privata a quella pubblica a quella pubblica a quella privata non mi interessa anche se passa per lo stav e anche se uno lo getta e anche se uno porge l'oggetto Benazai Omer e questa bretta ci dice che Benazai dice se uno trasporta dentro o fuori cioè da privata pubblica o da pubblica privata passando per lo stav è patur come avevamo spiegato fino adesso se invece uno lo getta o lo porge sarà insomma in sostanza abbiamo una bretta che conferma quello che abbiamo concluso noi riguardo Benazai ok adesso siamo proprio a metà pagina sempre 6A abbiamo una beraita una sorta di mishnah che non è entrata a far parte del cano delle mishnayot che va avanti fino a quasi la fine della pagina fino a tre righe dal basso e questa beraita ci parla dei vari delle quattro proprietà riguardo Shabbat Tanur Abbanan insegnano ai maestri Daled Reshuyot le Shabbat ci sono quattro tipi di proprietà riguardo Shabbat Reshuta Yahib la proprietà privata che di nuovo non si tratta di un privato bensì viene chiamata privata secondo i criteri che tra poco vedremo un Reshuta Rabim la proprietà pubblica Vecharmelit Carmelit vuol dire né questo né quello una cosa che non è né secca né umida è una cosa che è un po' in mezzo Un Mecomptur e c'è infine una quarta proprietà dove non vi è assolutamente alcun divieto perché nel Carmelit ci sono dei divieti che i Chachamim aggiungono nonostante che dal punto di vista della Torah il Carmelit sia un luogo neutro come dicevamo prima i Chachamim tra poco vedremo perché vietano trasportare più di 4 amotte o trasportare dalla porta pubblica al Carmelit e viceversa invece il Mecomptur è un luogo dove si è completamente esenti e anche i Chachamim non impongono alcun divieto e adesso la breita comincia a spiegare uno per uno comunque ne abbiamo quattro privata pubblica Carmelit e Patur la differenza da Carmelit e Patur è che Carmelit è quello che dal punto di vista della Torah sarebbe neutro ma i Chachamim lo vietano comunque Patur invece è quello che anche i Chachamim lo vietano allora si chiede la breita cosa è considerata proprietà privata dice la breita Cariz Cariz vuol dire un solco uno scavo che è profondo dieci inteso dieci Tefachim ed è largo quattro Tefachim per quattro Tefachim ripeto ogni Tefach corrisponde a otto centimetri secondo un'opinione quindi si tratta di 32 per 32 altezza 10 noi parliamo di un canale di un foso però il pozzo un pozzo di queste dimensioni è considerato una proprietà privata oppure se abbiamo un recinto un muretto che è alto dieci è dell'argo quattro per quattro la superficie sopra è da considerarsi proprietà privata adesso va per scontato che ogni superficie piana che abbia delle mura almeno tre mura alti dieci Tefachim è da considerarsi proprietà privata cioè la breita dà gli esempi meno evidenti cioè parla di una di un fosso parla di un'altura ma è chiaro che un piano piano con delle mura alte dieci certamente rientra in reshutayahid proprietà privata questa è quella che noi consideriamo una proprietà privata completamente ho fatto un google translate cioè quella che noi consideriamo completamente proprietà privata adesso vi anticipo che la Gemara si chiederà questo la breita diceva che cosa è una proprietà privata e risponde qualsiasi cosa che sia 4x4 l'altezza 10 questa è una proprietà privata completamente allora le domande sono due anzitutto la frase finale è inutile cioè se ti ho chiesto che cosa è una proprietà privata tu mi rispondi un'area di 4x4x10 non mi aggiungi questa è una proprietà privata perché è appunto quello che ti ho chiesto e quindi la Gemara si chiederà che cosa vuole la breita con questa frase e la seconda cosa vuol dire una proprietà privata completamente perché c'è una proprietà che non sia completamente privata che cosa vuol dire completamente privata comunque questo poi è il compito della Gemara la Gemara sta lì a decifrare ogni parola la breita ha il compito di parlare in maniera molto molto concisa come se fossero degli appunti ed è la Gemara che poi va a indagare su ogni virgola continuo la breita che cosa invece da considerarsi una proprietà pubblica stratia stratia sarebbe una strada che passa tra una città e l'altra quindi chiaramente una strada adibita al pubblico al passaggio del pubblico uflatia gdolà oppure un grande spazio spiazzo su cui insomma una zona di mercato dove il pubblico dove la gente espone la propria merce e il pubblico passa oppure delle strade che siano delle strade della città che siano aperte da entrambi i lati questa è una proprietà pubblica completa e come prima l'agmara si chiederà perché mi ripeti questa è una proprietà pubblica se è appunto la domanda che ti ho fatto e cosa vuol dire completamente ok prima di passare al carmelit la la beraita mi dice la regola del passaggio da una proprietà all'altra non si può trasportare un oggetto o trasferire dalla proprietà privata a quella pubblica e non si può fare entrare dalla proprietà pubblica a quella privata e se invece uno lo ha sì fatto ha sì trasportato fuori o dentro allora se era non intenzionalmente cioè uno si è dimenticato che oggi è Shabbat oppure si è dimenticato che è vietato farlo di Shabbat deve portare un corban un sacrificio Chattat Bemezidze invece lo ha fatto intenzionalmente ma non vi erano testimoni o non è stato ammonito Anushkaret la punizione è una punizione divina cioè una morte predisposta dal cielo invece se c'erano testimoni che lo hanno anche ammonito dicendogli sappi che è Shabbat sappi che questo è vietato sappi che riceverai questa e questa punizione e lui comunque l'ha fatto Venizcal gli riceve la punizione della lapidazione adesso la Beraita passa a spiegare che cosa è un Carmelit perché sono quattro le proprietà le abbiamo spiegate due Avalyam però il mare o qualsiasi luogo che contenga tanta acqua Ubità Ubità letteralmente serve una valle comunque un luogo di campi e sui campi il pubblico non passa anche se appartiene al pubblico ma non è adibito al passato del pubblico Veistevanit Istevanit sarebbe lo staff di cui abbiamo parlato a lungo fino adesso che sarebbe quella striscia di te di quella quella quell'area antistante i negozi dove i commercianti esponevano la merce quindi non è privata perché non è chiusa con dei muri e non è pubblica perché non è per il passaggio del pubblico Vea Carmelit e il Carmelit e chiaramente qui la domanda è ma aspetta mi stai parlando del Carmelit e mi dici come esempio sì il Carmelit è un Carmelit allora questo raghemerà più avanti lo chiederà anche ma intanto lo lasciamo così il Carmelit e in a lo chi resut a rabbim non è come non è da considerarsi proprietà pubblica perché non è adibita al passaggio del pubblico ve lo chi resut a yachid d'altronde non è neanche da considerarsi proprietà privata perché non ha delle mura non ha delle mura alte dieci e quindi dal punto di vista della Torah sarebbe neutra e quindi si potrebbe trasportare in essa senza limiti ovvero anche oltre la diagonale delle quattro ramot che abbiamo menzionato prima e trasportare da essa e in essa dalla proprietà pubblica eppure vietano trasportare in essa perché è molto simile alla proprietà pubblica nel senso è comunque aperta quindi uno se si mette a trasportare nella istvaniti in questa stav molto facilmente sbaglierà e trasporterà anche in quella pubblica perché questa non ha le mura quella non ha le mura non ci vuole niente che uno sbagli dice la Beraeta se però uno ha trasportato in essa patur chiaramente non deve portare il corbano perché non ha trasgredito un divieto della Torah adesso d'altro canto non si può trasportare da essa alla proprietà pubblica né dalla proprietà pubblica ad essa perché è vero che da un canto il carmelit è simile alla proprietà pubblica quindi non puoi trasportare in essa più di quattro perché rischi di sbagliarti ma d'altro canto è simile a quella Yahid perché è simile alla proprietà privata perché non ha debita al pubblico e quindi se io trasporto dalla proprietà pubblica al carmelit rischio di sbagliarmi e trasportare dalla proprietà pubblica alla proprietà privata quindi questa carmelit alla fine che cosa è? è un luogo che sarebbe neutro però i khakamim dicono guarda siccome è simile alla proprietà pubblica allora ti metto la restrizione ovvero non trasportare in quella proprietà più di quattro ramot perché rischi di sbagliarti con quella pubblica d'altronde siccome è simile a quella privata perché non ha debita al pubblico ti dico non trasportare dalla proprietà pubblica a essa o da essa a quella pubblica perché rischi di sbagliarti e di confonderti con la proprietà privata stessa e trasportare dalla proprietà pubblica a quella privata quindi da essere quella neutra quella veramente più leggera diventa quella che ha entrambi i problemi quindi non si può far uscire dalla dalla carmelit alla proprietà pubblica e viceversa e nemmeno dalla proprietà privata non si può far uscire a quella carmelit né della carmelit a quella privata e di nuovo se uno però comunque lo ha fatto è patur perché di nuovo dal punto di vista della Torah è una zona neutra dove non vige alcun divieto di trasporto da e ok adesso la beraita parla ci rimane praticamente l'ultimo il quarto che sarebbe il macompetur abbiamo parlato della proprietà privata pubblica carmelit ci rimane il macompetur prima di passare al macompetur che è quello completamente esente anche dal punto di vista di Chachamim la beraita la beraita erenka altri luoghi dove che sono considerati proprietà privata dal punto di vista della Torah eppure Chachamim vietano il trasporto come vedremo allora Chazerot Shel Rabbim giusto per darvi l'idea una volta al tempo della Gemara insomma le case erano disposte in questa maniera c'era la proprietà la strada pubblica dove passava il pubblico poi da là si poteva accedere a un vicolo un vicolo cieco una sorta di di strada a U che era chiusa dai tre lati allora ai lati c'erano dei cortili e nei cortili le case quindi magari abbiamo al lato destro tre cortili con due cortili due casi in ogni cortile lo stesso a sinistra e davanti anche un cortile con due case quindi alla fine diventa un luogo chiuso da tre lati dal punto di vista della Torah un luogo chiuso da tre lati è considerato proprietà privata i cortili in cui ci sono le case sono certamente anche proprietà private perché non sono adibite al pubblico e sono comunque chiuse con un recinto quindi sono a tutti gli effetti proprietà private anche se appartengono a due privati questo non mi interessa è comunque una proprietà privata quindi dal punto di vista della Torah non vi sarebbe alcun problema trasportare da una casa all'altra nello stesso cortile o da una casa all'altra che si trovi in un altro cortile o dalla casa alla stradina a U perché la stradina a U non è per il pubblico è una proprietà privata è comunque chiusa da tre lati è una proprietà privata i cortili sono proprietà private dicono però i hachamim se una persona si abitua o comunque sa che è permesso trasportare da una proprietà privata all'altra rischia di sbagliare e trasportare da una proprietà privata a quella pubblica per questo dicono i hachamim che bisogna fare quello che noi conosciamo come eruv eruv vuol dire il mispuglio metterci insieme piuttosto che vedere come tante piccole proprietà private diverse diventiamo tutti un'una proprietà privata e come si fa questo? prima di Shabbat si prende del pane da ciascun condomino di questi cortili e di queste case lo si mette in una sola casa siccome la persona vive in sostanza là dove mangia perché dipende dal suo mangiare quando io metto tutti questi cibi il pane che sia oggi usiamo le mazzotte perché le mazzotte si mantengono siamo fresche per molti Shabbatot quindi per evitare di farlo di nuovo ogni Shabbat e si mette in una sola casa in questa maniera è come se tutti abitassimo in una sola casa e quindi non stiamo più trasportando da una proprietà all'altra ma è tutta una sola proprietà questo chiaramente è una sorta di reminder quello che hachamim vogliono di modo che una persona si renda conto che non deve trasportare la proprietà privata a quella pubblica quindi facendo questo prima di Shabbat mettendo il pane che ciascun condomino ha dato in una sola casa è come se tutti abitassero in una sola casa e quindi non sto più trasportando dalla mia casa a quella del mio vicino piuttosto che dal mio cortile al cortile dell'altro stiamo tutti trasportando in una sola casa allora dice allora dice la biraita dei cortili che appartengono al pubblico ovvero un cortile dove ci sono due o più case quindi appartiene al pubblico e comunque dei privati chiaramente perché per essere pubblico ai fini di Shabbat deve essere un luogo adibito al passaggio del pubblico o delle strade che non siano aperte dai due lati come dicevamo prima ci sono delle case o dei recinti comunque che chiudono i tre lati allora se si è fatto l'eruv letteralmente l'eruv vuol dire il miscuglio cioè se si è fatta questa pratica di prendere il pane dai condomi e in questa maniera ci mescoliamo e diventiamo tutti condomini di una sola casa allora mutarim è permesso trasportare in esso l'eruv se invece non si fa l'eruv assurim è vietato adesso la biraita passa alla quarta ed ultima delle categorie che sarebbe il mecom petur adesso per essere considerata un'area deve avere almeno quattro per quattro se invece abbiamo qualcosa che sia meno di quattro per quattro allora dice così Adam Omed ha la iscupa cos'è la iscupa sarebbe la soglia la soglia della porta insomma è una una sorta di entrata alla casa e questa ha meno come dimensione ha meno di quattro tefahim per quattro tefahim però è più alta di tre ma meno di dieci perché se è meno di tre è come se fosse il pavimento e quindi deve essere dai tre tefahim ai dieci tefahim alto è meno ripeto meno di quattro per quattro tefahim ed è tra i tre tefahim di altezza e i dieci tefahim quindi 32 per 32 e dai 24 agli 80 centimetri e questo è all'entrata di casa che è considerata un mecon petur perché non ha la larghezza minima per considerarsi un'area a sé stante privata o pubblica che sia e quindi è come se fosse una non area allora Adam Homed alla iscupa se una persona si trova su questa iscupa che è la soglia che è un po' più alta come diciamo prima notel mi balabait balabait lì è padrone di casa ovvero se io mi trovo tra la strada e la casa su questa iscupa io posso benissimo prendere dal padrone di casa cioè da chi sta in casa venotello e lo posso prendere cioè in altre parole posso trasportare dalla proprietà privata al mecon petur a differenza del carmelit che è vietato da Chachamim farlo perché si rischia di sbagliarsi trasportare dalla proprietà privata a quella pubblica qui non è così perché non si rischia di sbagliare perché si nota che è una piccolissima area e non la si scambia per un'altra quindi si può da asportare dalla proprietà privata al mecon petur nel nostro caso questa iscupa questa soglia levemente alzata oppure notel meani oppure uno può prendere la povero povero si intende chi sta fuori casa cioè qui la prima miscia del trattato parlava del proprietario del povero per dire chi sta dentro casa e chi sta fuori perché in genere è il povero che sta fuori e chiede aiuto al proprietario che sta dentro quindi il proprietario sta per dire chi sta dentro il povero per chi sta fuori quindi se io mi trovo sulla iscupa posso prendere dal povero e portarlo sulla iscupa venotenlo uvilvad però a condizione che a condizione che io non faccia da tramite che non faccia da tramite cioè che prendo da qua e metto là anche se in sostanza sarebbe permesso perché non è neanche un carmelit è un macompetur quindi io la proprietà pubblica posso mettere in macompetur e da macompetur posso mettere in proprietà privata e viceversa chakhamin però dicono di non farlo come possiamo ben immaginare perché si rischia di farlo direttamente da proprietà privata a proprietà pubblica senza passare per il macompetur allora a condizione che non prenda dal proprietario e dia al povero cioè che non prenda la proprietà privata e lo dia a chi sta in proprietà pubblica chiaramente viceversa che io non prenda dal povero e lo dia al proprietario se però abbiamo fatto così cioè il povero mi dà e io do al proprietario o viceversa siamo in tre siamo tutti esenti perché nessuno ha fatto alcun divieto il povero che dà me non ha fatto alcuna alcuna trasgressione io che do al proprietario non ha fatto alcuna trasgressione quindi se lo stampo e tu rim sono tutti esenti esenti vuol dire non hai trasgredito però non lo puoi fare non lo puoi fare perché rischi di fare un passaggio diretto da proprietà privata a quella pubblica senza passare per il macompetur aherim omrim allora aherim letteralmente vuol dire altri quando la Gemara cita aherim è un riferimento a rabbi Meir che per via di un incidente che viene citato alla fine del trattato Horayot è stato come dire punito diciamo così che viene chiamato aherim altri quindi altri dicono riferimento a rabbi Meir quindi altri dice altri dicono iskupa meshammeshe ceteroshuyot lui dice diversamente questa iskupa sarà o proprietà privata o pubblica non è da considerare assieme a competur e come posso determinare se è proprietà privata o proprietà pubblica dice così bisogna vedere quando chiudi la porta di casa se la iskupa si trova fuori la considererai proprietà pubblica se invece chiudendo la porta la iskupa si trova dentro la considererai proprietà privata allora iskupa dice rabbi Meir dice aherim la iskupa può fungere da due da duplice proprietà ovvero bisman naul se invece la porta è chiusa considerarsi che la chutz come se fosse fuori casa quindi scusate non determinato dalla chiusura se la porta è aperta o se la porta è chiusa quindi se è aperta è come se fosse l'estensione della casa se invece è chiusa è già fuori casa ed è proprietà pubblica se invece questa iskupa è più grande perché fino ad adesso parlavamo delle dimensioni di meno di 4x4 che è alta tra i 3 e i 10 se però questa è alta 10 ed è larga 4x4 ha reso le chutz le azma questa chiaramente è già da considerarsi una proprietà privata perché la braita cominciava parlando di una proprietà privata che sarebbe o un qualcosa che è profondo 10 largo 4x4 o qualcosa che è alto 10 largo 4x4 quindi questa iskupa se ha queste dimensioni di 4x4x10 è già considerarsi proprietà privata se invece è di meno ovvero meno di 10 ed è meno di 4x4 secondo la prima opinione è home e compitur secondo l'achrimi invece dipende se la porta è aperta o chiusa questo concludo della braita io mi fermerei qui alla prossima